La cultura è necessaria? Sicuramente sì, ed è la domanda a cui Filosofarti da 20 anni risponde aprendo al territorio ben 80 interventi dal 17 febbraio 2024 al 17 marzo 2024 sul tema visibile e invisibile. È un tema che attraversiamo attraverso la filosofia, la storia, la letteratura, piuttosto che le scienze, l'arte, anche la fotografia, il cinema e tutte le forme culturali che permettono a un vasto pubblico, anche di non esperti, di partecipare a un dialogo attivo sui temi della contemporaneità e su grandi questioni anche esistenziali. Fra i nostri ospiti Maura Gancitano che inizia il festival proprio il 17 febbraio e poi Massimo Cacciari, Ben Sayag, Sini, Donatella di Cesari, poi ancora Cassioli, Cocchi Ponzoni, un evento più pop presso il Maga, Massimo Fini, Ambrangiolini e soprattutto anche Enzo Bianchi naturalmente per quanto riguarda l'aspetto teologico. Quindi speriamo che sia anche quest'anno un successo e sarà per noi importante che ci sia un buon pubblico presente. Vi aspettiamo dunque, ricordo che il programma è presente in www.filosofarti.it